È una persona, non lo dico qua, ma lo dico qua e d'altrove, squisita. Se ci dico di venire qua e parlare le metto in difficoltà. Parlo io che sono sempre chito che rompe i maroni a tutti. Nel bene e nel male. Especialmente il tuo figlio mi lo dava richiesto stamattina, figurato un po', tra parentesi. Volevo solo dire per primo, grazie ai genitori per averci scelto e noi cercheremo di ripagarvi insegnandola ancora di più. Oltre il vostro insegnamento gli daremo il nostro, sia educativo che sportivo. Grazie per essere sempre presenti e noi ci fa piacere e onore. Grazie, ora vi ho mangiato panettone, sperando come faccio da noi, per termine sicurezza. E un grazie di cuore dico a tutti i bambini di qualsiasi società. Noi ci chiamiamo un nome, ci sono le altre società, ci sono Roma, ci sono le altre società, Catane, eccetera, eccetera, eccetera. Ma per noi i bambini sono tutti uguali. Chi vince e chi perde per noi sono tutti uguali. Per cui volevo solo dire un augurio grandissimo al profondo del cuore a tutti, sia i bambini che i genitori, e ricordarci a noi tutti di essere un po' più buoni verso gli altri che ne hanno bisogno. Solo questo volevo dire. Auguri. Grazie a voi. Grazie.